Buonasera a tutti, oggi è la giornata del Black Friday, non lo so, forse si stiamo avvicinando alla settimana del Black Friday, io vi faccio un piccolo regalo, una cosa che io uso sempre. Si chiama Local Profit, è una piccola utility, un file veramente piccolino da scaricare e mettere nella cartella Experts, mi faccio vedere qual è, da Meta3 del 4 si sceglie File, Open Data Folder, dal menu, qua c'è la cartella Experts, MQL4 Experts, io l'ho messo dentro la cartella Visual Profit e qua c'è il Local Profit 2, che è quello che uso, gli altri sono versioni sperimentali, ok? E prima di farvi vedere come usarlo, appunto lo installiamo, andiamo a vedere rapidamente che cosa ho fatto io sul Local Profit 2, che è questo signore qua, set of key, pulsante destro, set of key dentro Expert Advisor, e io ho assegnato il tasto Alt V, come Visual Profit insomma. Allora, se io sono dentro un grafico, per esempio questo qua è un Nasdaq a 1 minuto, che l'ho attivato, mi faccio un trade anche al volo sotto il naso, lo lancio con Alt V, lo shortcut che vi ho fatto vedere prima, e ho questa cosa qua. Allora, supponiamo che adesso io faccio un acquisto, troviamolo questo acquisto qua, eh? Non lo so. Sì, potrebbe starci qua un acquistino, fai vedere. Anche no, faccio una vendita. Faccio invece la vendita, se non si compra si vende. Vediamo un po'. Ma, direi di sin sell. Allora, qua mi fa vedere subito l'importo dell'operazione solo per questo mercato, quindi trascurando tutti gli altri mercati. Sì. E ho premuto il tasto M sulla tastiera, come Milano. Sella ancora? Eh, viceversa, col tasto V mi fa vedere quanti contratti ho. In questo caso sono dentro con uno... con 3.20, che vuol dire 3.2 mini. Io credo che vada giù, quindi mi preparo a vendere. Intanto finisco l'operazione. Adesso ci sono così. Dai, ancora un po'. Dai, 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 dai. Dammela. Dammela. Così, così, via. Allora, concluso l'operazione. Quindi col tasto M fa vedere come money, fa vedere solo l'importo in denaro. col tasto V fa vedere anche il value, cioè che valore di lotti io ho dentro. Perché qualora volessi bloccare un'operazione, per esempio con un edge, per esempio, oppure sapere con quanto sono esposto, ho direttamente i lotti. non devo guardare direttamente il terminale, dove gli ordini di un mercato si confondono poi con gli ordini dell'altro del mercato. Insomma, mi sembra una cosa molto comoda e utile per chi fa scalpi. Local Profit. Vi lascio il QR code qua. qua, qua, qua in alto, qua, per scaricarlo direttamente con un URL del telefonino. Vi lascio in descrizione il link da cui scaricarlo, un URL molto semplificato rispetto all'altra volta. e vi lascio anche... che cosa vi lascio? Vi lascio. Mi basta. Vi lascio e vi dico semplicemente che se il video vi è piaciuto, questi regali vi piacciono, volete live reaction, volete chiacchierate con altri trader, opinioni sui mercati, piuttosto che qualche breve tutorial. Il canale è questo, potete iscrivervi, ma comunque beh, non me ne frego il cazzo. Se invece vi è piaciuto il video, volete mettere il like, potete farlo, ma a me non me ne frego un cazzo. Se non vi è piaciuto potete scacciare il tasto dislike e non me ne frego un cazzo, ma se lasciate un commento, io sicuramente lo leggerò. Ciao a tutti.